Buongiorno a tutti, mi chiamo Alessandro Morelli, ho 32 anni ed ho conseguito il titolo di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica nel 2017. Dopo una prima esperienza lavorativa di circa un anno, ho deciso di iniziare un dottorato di ricerca aziendale con il gruppo di fluidodinamica dell'Università di Brescia, con borsa di studio sostenuta dall'azienda IC Caldaie di Verona. Le attività di ricerca hanno riguardato l'ottimizzazione fluidodinamica di alcuni componenti di caldaie a vapore, come il canale di miscelazione aria-gas per bruciatori premiscelati, l'ottimizzazione dell'efficienza di scambio termico nei tubi da fumo con turbolatori, l'analisi di combustione di fiamma per bruciatori premix in camere di combustione confinate. Queste analisi sono state effettuate creando dei modelli virtuali dei componenti studiati e attraverso analisi fluidodinamica, o più comunemente chiamate analisi CFD, e l'impiego di algoritmi genetici è stato possibile comprenderne a fondo il funzionamento per poi infine ottimizzarli. Queste tecniche di ricerca possono essere impiegate in numerosi ambiti industriali e permettono di ridurre il numero di tentativi per la realizzazione di nuovi prototipi, arrivando così più velocemente a soluzioni efficaci e performanti.